Ciao ragazzi, eccoci qua pronti per un nuovo allenamento, un nuovo workout che anche questa volta andiamo a dedicare a Diana, la nostra amica Diana, che vuole dimagrire, rimettersi in forma e soprattutto rassodare un pochino il suo corpo. Allora, faremo tre blocchi di esercizi ripetuti per un minuto ciascuno, per i tre distretti, diciamo parte bassa, parte centrale, quindi addominali e parte alta. Utilizzeremo come strumenti di tortura una banda elastica, come questa, e un tappetino e poi il nostro fisico per fare tutto il resto. Non trascuriamo mai una fase iniziale di riscaldamento e una parte finale di defaticamento e di stretching. Durante l'esecuzione del workout, successivamente ad ogni blocco di tre esercizi da tre minuti totali, faremo circa un minuto, un minuto e trenta di intervallo cardio. Bene, possiamo andare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.